I piccoli comuni di montagna hanno meno chance di sviluppo rispetto ai comuni più grandi e con più infrastrutture? Non è detto, come dimostra una visita a Lemie, al 302esimo posto sui 312 comuni metropolitani per numero di abitanti. D'inverno sono 180 che d'estate diventano però circa 2000. Lemie offre possibilità di un turismo slow fra escursioni a piedi e in mountain bike e arte, bellissimi gli affreschi risalenti al XV secolo e restaurati della Cappella di San Giulio in Borgata Forno e quelli della Confraternita del Santo Nome di Gesù sulla Rocca al centro del comune. Tutto perfetto? Ovviamente no, la chiusura dell'unico bar del paese ha sottratto agli abitanti di Lemie il più importante spazio di aggregazione. Ricrearne uno è il sogno nel cassetto del sindaco Daniele Gabriele che ci racconta com'è vivere e governare questo piccolo comune della Val di Viù. Sostanzialmente il fatto di essere un comune piccolo ha dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi che ci si conosce tutti e che sostanzialmente c'è una buona collaborazione per cercare di portare avanti le iniziative che vengono messe in campo. Gli svantaggi è il fatto che comunque mancano servizi e ci sono parecchie cose che si potrebbero migliorare favorendo anche la possibilità di avere maggiori persone che risiedono in questo paese e danno vita a questo paese. Voi però avete trovato dei modi con cui valorizzare edifici, con cui avviare progetti? Sostanzialmente si cerca sempre di valorizzare le risorse che sono presenti sul territorio e in un comune come quello di Lemie le risorse maggiori sono quelle ambientali perché viviamo in un ambiente sostanzialmente integro e il fatto che a Lemie ci siano una serie di manufatti di pregio che possono essere valorizzati, che sono stati valorizzati per portare un turismo sostanzialmente più culturale e attento a certe dinamiche. Avete anche fatto dei progetti per esempio rispetto appunto all'utilizzo della filiera del legno? Uno dei pregi di questo comune è il fatto di avere un ambiente sostanzialmente integro e abbiamo a disposizione molti boschi sia di proprietà comunale che di proprietà privata. L'ultima amministrazione comunale sostanzialmente hanno cercato di valorizzare la filiera del legno ed in particolare con un progetto innovativo che è mirato a fare dei tagli selettivi tali da poter rimagazzinare maggiormente carbonio. Questa iniziativa ha fatto sì che il comune di Lemie fosse uno dei primi comuni in Italia a poter vendere i crediti di carbonio, quindi sostanzialmente migliorare il bosco selezionandolo e favorendo l'immagazzinamento di energia carbonica e vendendo i relativi crediti sul mercato libero alle aziende che sostanzialmente recepiscono e hanno bisogno di compensare le emissioni che producono con l'acquisto di crediti di carbonio. Tanta natura ma voi siete anche un paese d'arte. Sì, siamo anche un paese d'arte in quanto sul territorio ci sono delle piccole chicche che sono state valorizzate nel tempo e che fanno sì che il comune di Lemie sia un po' il polo dell'arte della Valle di Viù. Abbiamo degli affreschi molto pregevoli che sono stati restaurati e messi a disposizione del pubblico recentemente con risultati lusinghieri. Una domanda che facciamo sempre, quanta passione ci vuole per fare il sindaco? È necessario assolutamente avere delle motivazioni, delle motivazioni che nel caso mio specifico derivano dal fatto che io sono originario di questo paese, ho vissuto tutta la vita in città per motivi lavorativi e sostanzialmente ho ritenuto quando sono andato in pensione di poter dare un contributo a migliorare quelle che erano le mie origini. Tenete conto che la mia amministrazione ma anche le amministrazioni precedenti in questo paese rinunciano a ogni identità, sia quella del sindaco che quella della giunta che i gettoni di presenza, per far sì che le risorse economiche, che le scarse risorse economiche del comune siano incrementate per portare a nuovi progetti. La mia è un'attività di volontariato, ritengo che sia giusto che una persona nella propria esistenza possa dedicare anche dello spazio, del tempo per far sì che venga messo a fattore comune per il miglioramento della comunità in cui viviamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!